È stato presentato il Festival Jazz a Stornarella a Palazzo della Dogana, sentiamo il sindaco e l'organizzatore. Questo evento nasce dall'idea di promuovere il territorio attraverso la buona musica e l'enogastronomia. E quindi siamo orgogliosi di poter avere a Stornarella, attraverso ovviamente la collaborazione e il contributo della Regione e del Teatro Pubblico Pugliese, di portare degli artisti di fama internazionale che danno la possibilità, diciamo in maniera gratuita, perché l'ingresso è gratuito, di poter ascoltare della grande musica. Ci saranno sicuramente tanti amanti del jazz che verranno per conoscere la nostra realtà e quindi apprezzare il nostro territorio. Intanto ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico, siamo orgogliosi di presentare questo programma quest'anno davvero ricco di artisti di fama internazionale, in cominciare dalla prima serata che ospiterà Paolo Fresio di Tamarco Tulli, la seconda serata Enrico Pierannunzi e Rosario Giuliani, e per finire con Yona Shin, una famosissima cantante coreana, quindi quest'anno anche una collaborazione con un famoso festival coreano. E quindi intanto ci aspettiamo tanta gente, un'ottima musica di questo ne siamo assolutamente certi, e gente che venga a scoprire Stornarella nella veste appunto di promotrice di ottima musica. Quindi vi aspettate anche gente che viene da altri paesi? Assolutamente sì, intanto io ricordo benissimo le precedenti edizioni, intanto mi piace ricordare che si tratta della decima edizione, l'abbiamo iniziato nel 2010, le precedenti edizioni mi ricordo che c'era gente che veniva da me a complimentarsi, perché magari veniva da Taranto piuttosto che da Napoli, da Caserta, da Avellino, per cui io sono convinto che quando si fa dell'ottima programmazione con artisti internazionali, con bravi musicisti, il pubblico poi apprezza e segue i concerti. Poi mi piace ribadire ancora una volta che i nostri concerti sono tutti ad ingresso libero, per cui basta venire e quindi prendere posto e fruire della nostra offerta musicale. e aggiungo anche che alle 20.30 prima di ogni concerto sarà allestita una piccola degustazione enogastronomica che terminerà ovviamente alle 21.30 prima dei concerti.